Allora professore, presentato questo piano, lei nel tempo ha avuto modo di intercettare la località, vedere i luoghi, ascoltare le persone, le categorie. Si è fatto un'idea e ha tirato fuori questo progetto, un progetto in linea di massima che serve per varare. Ovviamente ci sono ancora dei punti critici da considerare e da rimediare. Sì, il progetto è molto chiaro, il progetto tenta in qualche maniera del rilancio turistico di Ischia. Ovviamente ne abbiamo delle criticità, soprattutto perché noi abbiamo avuto la fortuna che i turisti arrivavano, ma adesso abbiamo cominciato a ragionare per andare a cercarci i turisti. Pertanto questo è molto importante capire che la proposta turistica di Ischia, del comune di Ischia ma anche di tutta l'isola di Ischia, deve essere il risultato del lavoro di tutti i soggetti. Amministrazione, operatori, ricettività, commercio eccetera eccetera. Il piano ti dà in qualche maniera una proposta di che cosa dobbiamo fare ognuno per portare a casa dei risultati e far sì che il turismo ritorni a essere quello che ha permesso a Ischia essere quello che è stato. E avere un turismo che ci possa funzionare per 8-9 mesi nell'arco dell'anno. Avendo vissuto e vivendo il territorio come sottoscritto per il lavoro che fa, ho percepito nel tempo un po' di diffidenza, soprattutto negli operatori, cosa che abbiamo palpato in maniera sottaciuta ma non troppo anche nell'incontro di stamattina. Cosa si può fare per eliminare ancora questi muri che ancora sono di diffidenza nei confronti di tutto l'impianto? Allora la reazione è molto normale, ti spiego il perché. Allora una delle caratteristiche, quando le cose non vanno benissimo, mentalmente è quello di tenere e di proteggere quello che ho. E questo provoca in qualche maniera diffidenza e soprattutto la paura al cambiamento. E questo è il problema importante da capire. E qui c'è una ragione molto chiara. Il mercato sta andando per determinate strade e che può coincidere con quello che io ho e penso o no. Il mercato purtroppo o per fortuna, non lo so, è soverano. In questo caso concreto che cosa dobbiamo fare? Che cosa stiamo facendo? Tentando di mettere insieme quegli operatori turistici, commerciali eccetera che vogliono fare e andare avanti. E le altre pian pianino ci crederanno e arriveranno. Questo è un po' il ragionamento. Quello che è molto importante, carissimo, è che non si aspetta. Si parte. Chi c'è c'è, bene. Le altre pian pianino arriveranno. Questa è un po' la filosofia. Due le criticità di fondo. Il problema della interconnessione con gli altri comuni. Partire da soli, d'accordo, però bisogna considerare un discorso ischia perché da fuori si concepisce l'isola intera. Secondo, è stato un accenno fatto da qualcuno ma è rimasto lì. Il problema della mobilità, della viabilità, troppe auto, i servizi che vanno modificati. Lei ha parlato di taxi, non abbiamo parlato di servizio pubblico di bus. Insomma, bisognerebbe riguardare tutto questo. Allora, due cose. Per controllo dell'accessibilità, sì, questo è un problema. È previsto, però evidentemente dobbiamo fare in qualche maniera dei passi con una certa logica. Perché questo? Perché oggi il turismo va sulla questione della sostenibilità e su questo la mobilità è fondamentale. Non dimentichiamo una cosa, che attualmente il 60% dei turisti europei dichiara che uno degli elementi sui quali fa le sue valutazioni per scegliere dove andare è l'aspetto della sostenibilità e anche della mobilità. Lì è un compito che complessivamente come isola dobbiamo mettere in piedi e ragionare. E pertanto è previsto fare dei passi sull'utilizzo, per esempio, di macchine elettriche, biciclette elettriche, moto elettriche, eccetera, eccetera. Anche incrementare i posti di ricarica, eccetera. Cioè, c'è una strategia, c'è un processo e su questo dobbiamo lavorarci. Pertanto c'è questa prima criticità. Seconda criticità, quello che parlava, beh, noi dobbiamo ragionare su un fatto. Il turista che arriva è un bene per tutto il territorio, per tutta l'isola. Pertanto pian pianino dobbiamo dimenticare le guerre interne, le logiche anche, diciamo, di amministrativo, questo mio, questo tuo, per ragionare che dobbiamo andare tutti insieme. Cioè, la forza oggi nel mercato di tutti i suoi si ha con la forza e con la unione, non con la disegregazione. Grazie. Grazie. Grazie.